Cosa ne sai? Tutte la bontà. In fondo al cuore tu sei malvagia. Non sono malv... Questa rabbia è davvero sprecata in te. Sorella, tu credi sul serio? Che potrei cospirare con lei contro di te? Tu sei mia sorella e io ti voglio bene. Certo. Ma ho bisogno di una prova. Che lui sia chi afferma di essere. Ma l'ha già dimostrato, no? Non con me, sorella. Grazie per la visita. È il mio compito. Mostrare la città? Prendermi cura del re. Certo. E a tal proposito pensavo che sarebbe carino organizzare una festa con una brace e regali. Cioè, mia sorella mi ha detto che la tua magia è davvero molto potente. Oh, su, serio? Sì. Sconvolge la mente di tutti quelli che la provano. Oh, come vorrei vederla con i miei occhi. Già. Perché non me la mostri ora? Ora? Sì. Ogni cosa ha suo tempo. E a suo tempo ogni cosa. Quanta verità e saggezza. Bene. C'è un'ultima stanza che vorrei tu vedessi. Il regio tesoro di Oswe. Appartiene a chiunque sia il re. Va tutto bene, mago. Va a goderti la tua ricchezza. E' mio! Mio! Ah, mai più vestiti usati per te! D'ora in poi sono seta e raso! Oliva va! E' una di queste cose! Cos'è questo? Un calice. Un calice! Ho sempre voluto avere un calice. E ora ne possiedo uno. Veramente, non è tuo ancora. Vedi, diventerai re soltanto dopo aver sconfitto la strega cattiva. Questa è la profezia. E poiché non l'hai ancora sconfitta, non sei... Non sono ancora re? Non ancora, no. Devi prima sbarazzarti della strega cattiva. Certo. E ucciderla non sarà facile. Immagino che non sarà facile. Aspetta un momento. Non si era parlato di uccidere persone. Oh, se non ti interessa diventare re, per me va bene. Dimentichiamoci di tutto, dell'oro e dei rubini e del calice. Mi interessa! Ah, è solo che non me la sento di uccidere una donna. Non è una donna. È una perfida strega. E la tua magia è l'unica in grado di distruggerla. Non devi far altro che recarti nella foresta oscura e distruggere la sua bacchetta. La bacchetta? Sì, è la fonte del suo potere. Senza bacchetta, amore. Non ho neanche salutato Teodora e si può offendere. Le parlerò io domattina, le dirò quanto la ami. No. No, no, non dire niente. D'accordo, le dirò qualsiasi cosa tu vuoi che le dica, ma... Allora ci salverai tutti o... O no? Sono il vostro mago. U-Space 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 I-B-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A-R-G-A